Per acquistare crediti visitate FIFA Coinstank, un sito economico veloce e sicuro al 100%. Inoltre potete utilizzare il mio codice coupon che trovate in descrizione per avere il 5% di sconto. Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmic e sono qui a portarvi un nuovo episodio dei Se fossero su FIFA 15 numero 3, abbiamo tre giocatori davvero importanti con la novità che ho aggiunto un giocatore speciale che comunque farò da questo nei prossimi episodi che comunque vedrete dopo o comunque vedrete nella miniatura. Comunque partiamo subito ringraziandovi del vostro supporto, dei vostri mi piace, dei vostri commenti continuate a farlo, a lasciare like e commenti sui giocatori che dovrò trattare in futuro. Quindi cominciamo subito con i tre giocatori di oggi, il primo giocatore è una conoscenza della serie A e stiamo parlando di Bruno Perez che non so perché non è presente su Ultimate Team ed è comunque questa carta qui che secondo me non è il massimo nel senso che potrebbe e dovrebbe essere qualcosa di più soprattutto secondo me dovrebbero aumentare quello che è la velocità e il tiro perché basti solo vedere il gol che ha fatto nel derby contro la Juventus per capire un po' questo giocatore. Velocità è un po' bassa rispetto a quello che dimostra in real life e il tiro pure. Poi per il resto le statistiche vanno anche abbastanza bene, mosse abilità e piede debole penso, io non sono un tifoso del Torino quindi non è che lo guardo tutte le partite ma comunque penso che siano corrette. In ogni caso qualche tifoso del Torino o qualche tifoso che lo conosce comunque bene mi sappia dire nei commenti se poi alla fine la carta è più o meno giusta. Comunque fatemi sapere questo. In ogni caso Perez sta disputando una buona stagione con qualche gol, un paio di gol se non sbaglio e diversi assist in campionato quindi sicuramente un ottimo giocatore, un ottimo terzino. Andiamo invece con un nuovo giocatore, un giocatore che non è presente anche lui in Ultimate Team stiamo parlando di Lucas Silva che è un centrocampista del Real Madrid che molti di voi conosceranno visto che ultimamente sta giocando, visto un po' l'emergenza centrocampo che ha il Real Madrid è un giocatore che viene dal Brasile, un centrocampista difensivo che all'occorrenza può fare anche il centrocampista centrale come vedete da questa carta sono le statistiche ovviamente prese da Sofifa anche quelle di Bruno Perez sono prese da Sofifa al sito di FIFA sono statistiche secondo me da giocatore bronzo, medio, argento però essendo del Real Madrid dovevano farlo oro, penso che abbiano ragionato così anche lui tre stelle pededevole, tre stelle abilità le statistiche comunque non sono il massimo della vita certo sono buone statistiche di difese fisico comunque per un Cdc ma il resto delle statistiche non sono il massimo della vita in ogni caso è un buon giocatore, l'abbiamo visto in queste ultime partite appunto del Real Madrid anche una partita in Champions League ha fatto quindi ci sta, una buona carta cioè un buon giocatore, poi la carta non è il massimo comunque sia, questo è un giocatore molto giovane se non sbaglio è del 93 quindi avrà tempo per crescere al meglio e andiamo all'ultimo giocatore come dicevo la chicca dell'episodio o comunque della serie perché da questo episodio in poi l'inserirò cioè le leggende che potrebbero uscire, cioè dovrebbero fare su FIFA in generale e stiamo parlando di Alex Del Piero leggenda della Juventus, leggenda del campionato italiano leggenda dell'Italia, leggenda in realtà del mondo perché è un giocatore pauroso internazionale è un giocatore molto amato da tutti penso un signore ecco come si dice questa è la carta che ho ipotizzato io adesso non sapevo neanche che statistiche dargli mi sono un po' basato un po' sul mio intuito comunque fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e secondo voi se dovrei aumentare qualche statistica o diminuire che ne so comunque Del Piero merita meritava di essere subito una leggenda in FIFA 15 lui era presente in FIFA 12 poi in FIFA 13 no e in FIFA 14 in Australia che aveva anche ricevuto una versione IF tra l'altro però era di una velocità bassissima quindi inutilizzabile io l'ho ipotizzato come 90 con ruolo COC in realtà lui può fare qualsiasi ruolo offensivo quindi vabbè lì è uguale gli ho dato una buona velocità davvero un'ottima velocità e soprattutto un tiro pazzesco ma quello che salta più all'occhio oltre vabbè alle statistiche sono le 5 stelle predebole che sono necessarie secondo il mio parere e anche le 4 stelle abilità in ogni caso è una leggenda che dovrebbero inserire su FIFA perché è subito dall'anno prossimo perché è obbligatorio fatemi sapere nei commenti ragazzi qualche altro giocatore che vorreste che io tratti nei prossimi episodi ma soprattutto qualche altra leggenda che vorreste che io inserisca da Maldini a Zidane a Ibuba per dire no comunque a parte gli scherzi fatemi sapere nei commenti così da vedere le vostre preferenze e i giocatori che dovrei fare nel prossimo episodio ragazzi il video finisce qui come sempre io vi invito a lasciare un bel pollice in su 400 mi piace uscirà un nuovo video un nuovo episodio vi invito a iscrivervi al mio canale pagina Facebook Twitter Instagram tutti i link li trovate come sempre in descrizione noi ci vediamo al prossimo video bella raga